Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La celebre conduttrice e ballerina Samantha Togni ha finalmente svelato i motivi della sua rottura con uno dei suoi ex più famosi. Recentemente al centro della cronaca rosa per una presunta crisi con il marito Mario Russo, Samantha è stata oggetto di dibattito anche per la fine della relazione con Stefano Bettarini. La storia tra Samantha e Stefano è iniziata durante la partecipazione di entrambi a Ballando con le stelle nel 2009, ma purtroppo è stata di breve durata. Secondo indiscrezioni la causa della rottura sarebbe stata l'infedeltà di Bettarini. Alcune fonti sostengono che Samantha abbia interrotto la relazione perché non era pronta per la convivenza, mentre altre indicano la propensione di Bettarini a essere un farfallone come motivo principale della separazione. Tuttavia la conduttrice non ha mai confermato nessuna delle teorie circolate. In una vecchia intervista diva e donna, Samantha ha dichiarato di non voler tornare sui dettagli della sua relazione con Bettarini, sottolineando che Ballando con le stelle è un mondo a parte che diventa un vero e proprio microcosmo durante la sua durata. Dopo anni di silenzio sulla questione, Samantha Togni ha finalmente rivelato in retroscena della sua rottura con Stefano Bettarini, alimentando ancora una volta le voci e i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale.